All'alba di ieri mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso presso il bar Borsa per un principio d'incendio dei rifiuti posti all'esterno del locale. I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco hanno prontamente spento i rifiuti evitando la propagazione delle fiamme alle abitazioni vicine. Le cause del principio d'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un'ora con il ripristino e la bonifica di tutte le condizioni di sicurezza.